Anche la Danimarca è sconvolta da una nuova ondata di attacchi terroristici, due gli episodi avvenuti nella giornata di sabato e nella notte appena trascorsa. Il primo durante un convegno organizzato in ricordo della strage al settimanale satirico francese Charlie Hebdo, con un bilancio di un morto e tre feriti, fra i quali i feriti c'è anche l'ambasciatore francese. Il secondo episodio nella notte tra sabato e domenica, intorno a mezzanotte, una seconda sparatoria, si è verificata nei pressi di una sinagoga nel centro della città, con un morto e due feriti, ma al momento non è chiaro se i due episodi siano collegati. Intanto, proprio pochi minuti fa, è giunta anche la notizia che sarebbe stato uccisa una persona vicino a una stazione ferroviaria e non è chiaro se si tratti dell'attentatore. Grazie a tutti.